Parliamo di un progetto che le sta particolarmente a cuore, il traforo di Almo Cantarana, su quale lei ha investito tempo, conoscenze, sollecito alla politica. Sembra che insomma la strada vada più spedita. Io con grande soddisfazione in questi ultimi mesi, dopo aver tirato fuori dei cassetti del Ministero e dell'ANAS, questo progetto che era lì fermo da tantissimi anni, dopo l'iniziativa di luglio a Cantarana, in quel bosco di fronte al traforo geognostico e poi recentissimamente ripristinata una identica iniziativa in quel di Pieve di Teco. In quell'occasione i due presidenti delle regioni hanno inviato, grazie anche alla condivisione che i territori, le popolazioni, le economie davano a questo progetto, hanno indirizzato al Ministro una lettera in cui dicono che per il Piemonte e per la Liguria il traforo di Almo Cantarana diventa una delle priorità da inserire nell'accordo di programma 2025. Il Ministero attendeva le volontà dei territori per capire, certo che le opere infrastrutturali sono tantissime quelle che necessitano sia il territorio piemontese che quello ligure, ma se c'è un'espressione così chiara come la lettera lo sta a testimoniare vorrà dire, ne sono certo, che sarà inserita nella prossima programmazione questa opera che attendiamo da 30 anni e che ci auguriamo veramente ci avvicini al Mediterraneo e avvicini questi territori non soltanto al Mediterraneo ma anche alla Francia di cui abbiamo estremamente bisogno proprio per favorire questa nostra competitività che mai, come dicevamo prima, dalla Francia è riconosciuta, acquistata, comperata e che ci permette di diventare sempre più protagonisti anche sul mercato globale.